però che schifo di film che hai messo ma voi che luce è questa c'è non si vede niente non mi interessa sto show vuoi cambiarlo stai zitto adesso inizia la parte che mi piace ma bisognava proprio vedere verissimo si che vuoi cambiare canale e si va bene ok metto metto canale allora ti piace sto show no no che credi che sono mica un bambino piccolo si si infatti vedo che è molto collegato a questo ma che modo cambia subito ok 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 ma l'ho spenta infatti hai cliccato il bottone sbagliato no no no